Maltrattamento di animali, tutela del verde, gestione dei rifiuti ma anche emissioni e odori che disturbano i cittadini. Sono questi i settori di cui si occupa il nucleo di polizia ambientale della locale di Trieste e le quattro guardie ambientali del comune. Un'azione sempre più crescente, delicata e spesso molto certosina e complessa, quella messa in campo da questi specialisti sul territorio. Due nuclei diversi che però seguono gli stessi temi, la tutela del verde, la tutela del nostro territorio e il benessere degli animali. Con competenze diverse, con punti di vista diversi. Da una parte le guardie ambientali seguono questi argomenti stando attenti al rispetto dei regolamenti comunali e del verde pubblico e li seguono dal punto di vista amministrativo, emettendo eventualmente delle sanzioni. D'altra parte invece il nucleo di polizia ambientale, un nucleo di polizia armata che segue queste tematiche anche eventualmente nei risvolti che queste tematiche possono avere dal punto di vista penale. Operiamo in campi i più vari e svariati. Vanno da quel che possono essere il controllo del territorio per quel che riguarda i rumori derivanti da condizionatori, perché no frigoriferi, quindi apparecchi rumorosi per la parte polizia ambientale, a quello che può essere il controllo dei giardini, perché no ovviamente il controllo del conferimento di rifiuti per entrambi i nuclei. Sul fronte del benessere animale, il report del nucleo di polizia ambientale parla di 219 interventi, di cui 181 di carattere amministrativo e 38 penali, con 2 sequestri e 94 sanzioni per mancata iscrizione all'anagrafe canina. 65 gli interventi sulla tutela del verde, di cui 7 penalmente rilevanti. Fra le 210 azioni per la tutela dei rifiuti si segnalano 10 confische di autocarri sottoposti a sequestro, poi ancora 107 interventi per emissioni odorose e disturbo della quiete pubblica. Le guardie ambientali invece hanno combinato 37 sanzioni per cani senza guinzaglio o mancata pulizia delle deiezioni e riscontrato 420 violazioni al conferimento dei rifiuti nei bottini sul territorio.